Salvatore di Natale è napoletano ma è vissuto in Tunisia fin dagli anni Sessanta. Nella città di Napoli ha completato i suoi studi e si è laureato all'Istituto Orientale in letteratura francese. Ha pubblicato con gli editori Einaudi, Garzanti, Campanotti ed è autore di testi teatrali ed ha creato molti eventi formativi sia da solo sia con amici. La pratica della traduzione da Baudelaire a Mallarmé da Dante a Montale è stata una costante della ricerca poetica di Salvatore di Natale. Traduzione intesa ovviamente come appropriazione, ricreazione del testo illustre da parte del poeta traduttore. Ed ecco a voi Sasà di Natale. I miei amici mi hanno spiazzato perché non sapevo che avrebbero citato Sergio Bruni, l'ho conosciuto una trentina di anni fa ma non è questo. Hanno citato comunque la grande traduzione napoletana e ringrazio Costanzo che ha ovviamente parlato della mia formazione. Ma io, e ci tengo a dirlo stasera qui, è perché credo che sia dovuto alla grande tradizione, sì è vero, ho fatto tante cose, ma ci tengo a dire che sono nipote diretto di un grande autore di canzoni, Armando De Gregorio, che ha scritto una canzone che conoscono tutti, Vierno, e c'è una mia poesia, ma scusatemi, io non mi aspettavo di dover dire questo, ma ci tengo a dirlo. Armando, lo zio Armando era il fratello di mia madre e io devo tutta la mia conoscenza della lingua napoletana a mia madre sicuramente. E appunto lo zio Armando pubblica la canzone nel 1945, subito dopo la guerra, ed è proprio Sergio Bruni uno dei primi a interpretarla. Io ho scritto una poesia che sta appunto pubblicata già da parecchi anni in onore dello zio, ma scusatemi, credo di ricordarla a memoria. E parole in a canzone, rindo fuma, rannuttata, torna a casa, a Roma aspetta, che la vecchia catessora, non mi fa paura, ossaccia, capognuno veno vierne, che parole in a canzone, tan misi in dotauta, e nu canna camallucca, roppo vierne, io morì. E ci tenevo a fare questo omaggio allo zio, passando a cose diciamo più liete e pensando al tono della serata, avevo preparato appunto questi brani, avevo comunque portato questi brani, però vorrei, se è possibile, staccare il microfono, ma non è qua. Se è, grazie. Se è, perfetto, grazie. Si sente, eh? No? Ok. Allora, questo è un brano che ho pubblicato parecchi anni fa e credo che vi vada bene come introduzione. Titolo Verde Table, cioè versi da tavola, è un dialogo tra un signore che sta appunto, che si è seduto al ristorante, e il cameriere, cosa si può mangiare? E' un decasillabi, fatti come al ragù, troppo pesanti, oppure decasillabi stufati, glissons, Signore, abbiamo i novenari alla guido gozzano, quelli doppi, quelli di agliè, mondio, che è il movegu, timballo di ottonari, con o senza rima, si intende rima al forno, no. Vediamo i settenari, li facciamo all'arrabbiata, ma con i quinari, pasta mischiata, sa cosa succede? Abbiamo la credenza piena zoppa di endeka, li spezziamo nei mistichi, me li consiglia? Sono per bon bush, mi raccomando. Sciolti al punto giusto, al punto di cesura, stia tranquillo. Poi c'è un pezzo che però appartiene, fa parte di un lungo, di un lungo testo, molto, che ho appunto, Costanzo parlava dei testi teatrali, che ho anche rappresentato insieme ad attori, eccetera, ma io qui ho estrapolato semplicemente una scena, infatti le prime parole sono tipicamente, sono le tipiche parole di una didascalia, una scena che però appunto è una scena culinaria, è la messa in scena del purpo affogato, della morte del purpo. Entrano in scena, il purpo che apparirlo, la prostituta Auliva e Pumarola, mamma schiavona della nostra tavola. Purpo, scognizzo detto Niresic, si innamora di Auliva, ma il macrochiapparo in arte d'oci sale. Vedo un sciuscio, ovvero scopre la magagna e affoga, purpetiella, puoco lento nel pignatiello basso tegamino. L'estrema unzione o estremo unzovamento, purpo da Pumarola la riceve, spira tra le sue braccia e canta l'aria Mamma, 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 muorte lupurpe, sta sotto alla preta. poi viene un pezzo però qui veramente qui si parla di cose molto serie e vale, cioè sarebbe il caso addirittura di citare Dante mirate la dottrina che si asconde sotto il velame degli versi strani l'asegg è strutta tra sostanze chiù e una bistec che l'ha lì giù d'Aineide o cacchilei e fa case putechi in tuo musei tenere il cervello e una filosofessa e agnostro un buon di lingua poi non messa l'asegg è carne annecchia è insista e è coro non è merluzzo, non è pesce a broro l'occhio dell'asegg quando coglie, coglie pur per nascondare e scoglie l'osso dell'asegg è buono pa' canaria che ci siamo l'opizzo e non un'essa poi mi hanno detto di non essere troppo appunto di non esagerare, di non allargarmi e quindi vi do delle cose così siamo alla frutta insomma ecco alla fine comuna è purtual ruppia e scorza a chi lo pana a chi non tene niente capo ma a gaba è per spartare vecchia e già che tra il pubblico c'è un caro amico che viene da Mosca il nostro caro amico Alexander Uruso detto Sash voglio dedicargli un epigramma tradotto in italiano appunto loro parlavano delle mie appunto trascorse avventure con la lingua francese si tratta di un epigramma di Jean de la Fontaine il grande favolista che tutti conoscono però tradotto ovviamente da me in italiano è dedicato in maniera veramente iper letteraria a me medesmo in vestaglia di Oblomov il grande personaggio della letteratura russa Jean sarebbe Ivan in russo Ivan se ne va così come è venuto dilapidato a rendite e guadagni nemmai ha amato andar d'oro vestuto e il fiume tempo ha diviso in due stagni in parti uguali egli solea passare la notte a letto e il giorno ha niente fare arrivederà grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.